Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio dell'ignoranza tedesca Tutti pronti? Dai dai! Signori quindi inizia il terzo episodio Vediamo subito di trovare un avversario Buttiamoci al capofitto del tuo ragazzo di partita E speriamo di continuare questa serie positiva Un telara fellai Quello è ferre E gli altri non so Ah quello vimmer tipo Del totte, dai su Si può fare, dai si può fare A posto iniziamo dai dai Battono loro Allora dobbiamo cercare di mantenere La forma ma insomma Degli scorsi episodi Nuovo innesto Must, 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 must Che è partito, oh mio dio Mamma mia va, oh dio Must e tornare di rigore, must Troppo centrale, ma arriva Stenberg Doveva essere un tiro quello Wolf Eh, punizione? Beh questa è punizione direi Proviamolo, proviamolo Jopek Noo la barriera Jopek è dall'angolo Reinhardt non ci arriva di testa stavolta La fellai Non lo facciamo partire Questo piotta John Cazzo Mamma mia Zenga che recupera Bravissimo Pala palla per Wolf Wolf è entrato Wolf Dentro Jopek No, no, no Non è possibile Non è possibile Non sono tutti scemi Dalla la Bravo per Jakob Guarda Wolf Speriamo che ci arriva Bravo È partito Non ha superato uno Dalla per Jakob Jakob È passato Lo devo fa Lo devo fa Lo devo fa Masta Un upgrade in più per noi Purtroppo un tempo Devo avere ogni buchetta in cia Ogni occasione va sfruttata La devo sfruttare per forza Perché questo Un upgrade in più per noi Dai è così Wolf Zenga per Reinhardt Reinhardt per Jakob Jakob Solo uno contro uno Jakob Un altro goal Questo è troppo forte Questo è troppo forte Mamma mia Grande Goal a technology È goal È goal Non ci stupiamo di queste cose È goal cazzo Vediamo provare una mattata Da fuori Cazzo Must Sternberg Per Jakob Che però c'è uno stop Del cazzo Quello ce l'ha Però recupera E recupera per Wolf Wolf Lato in mezzo Non mi ha selezionato Il giocatore Reinhardt L'ho visto Non mi ha selezionato Jakob 3 a 0 Per lui Sono contento È un bel giocatorino Must Must Oddio Must Must Mamma mia Che cos'è Oh è sempre munizione Però dalla parte sbagliata Vediamo un attimo Vediamo così Reinhardt Oddio Reinhardt 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 Guardatelo in faccia Questo è un fenomeno Doppietta Goal su punizione Vediamolo Bellissimo Bellissimo Arso le mani Questo è il gol più bello Finora Della serie Si finisce qui 3 upgrade per noi Uno per la vittoria Uno per il gol debutto Di Di Must E uno per la porta inviolata Signori noi Ci vediamo tra poco Con la squadra potenziata Bella Signori non solo Questa partita ci ha portato 3 upgrade Ma Abbiamo vinto il titolo Non ci avevo pensato poi Perché Non lo sono andato a controllare 4 vittorie di fila 12 punti raggiunti Ci avremo il titolo Quindi Questo episodio sarà Un pochino più corto Ma adesso Ci andiamo a aprire I 3 pacchetti Che ci spettano Per aver vinto la divisione 10 Dai Signori eccoci i pacchetti Allora Il premio di divisione 10 Ci dà 3 pacchetti Da aprire Quindi direi che Andiamo a aprire subito Questo è il primo C'è la cassette Andiamo Dai 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 Vediamo chi trova Questo non lo schippo E lo lascio così Vediamo un attimo Pardo Pardo Charts Vabbè Insomma Sono tutte Non ci serve Chissà che Ecco questo Direi che Mandiamo questi al club E Bello questo Secondo pacchetto La cassette Questo però Stavolta lo schippiamo Perché insomma Mi pare pure giusto Lo schippiamo Uuuu Ci sta mettendo cifra Caricare Eccolo 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 Lo schippiamo Ora Classo 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 Botteghin Cusmin La divisa del Francoforte Che comunque L'oggetto tedesco Ma non è che ci serve Proprio a tanto Ultimo pacchetto Hurricane E poi Poi insomma Signori Per questo video Ci salutiamo Insomma È tutto Andiamo a aprire Questo pacchetto Vai Howard Team Howard Buono Buono Olic Arshavin Niente che ci possa interessare Mille crediti Che sono buoni Howard Lo mettiamo Vabbè Matata Club La mia lista Trasferimenti Olic Lo mandiamo La lista Trasferimenti E io direi Ci prendiamo Questo Queste cose Un po' così Questo E questi Via Signori Eccoci qua Dopo il pacco opening Non è stato tanto fruttuoso Però Vabbè Meglio di niente Abbiamo colegliato Qualche credito Qualche contratto Insomma Andiamo a spendere Però questi Tre Upgrade Farò Qualcosa di Particolare Andremo A potenziare Conrad E al suo posto Entrerà Il buon Sama Dopodiché Saller Al posto del tanto E caro Reinhardt Un po' mi dispiace Però È così E l'ultimo upgrade Ce lo andiamo a spendere In maniera Particolare Ovvero Andiamo a portare Il primo argento Della Della rosa Cioè Io sono emozionatissimo Purtroppo Mast Non ha fatto Una grandissima prestazione Non che mi sia dispiaciuto Devo essere sincero Però Secondo me Non è all'altezza Quindi adesso Per comodità Lo lascio in panca E signori Ci andiamo a mettere Lui Stop il camp Paderborn Alla sinistra 3 stelle di Biade Debole 3 stelle abilità Buono Buono Il nostro primo argento Sono veramente contento Cazzo E signori Con questa visione Paradisiaca Della nuova squadra Con il primo argento Ovvero stop il camp Noi ci salutiamo Noi se beccavamo Un prossimo video Mi raccomando E seguite Costantemente La mia serie E vabbè Ho stato a seguire Bravi La serie D'Alessio Bravo Ragazzo Bravo Ale Che se io non ti dico Che i blocchi De terra Cioè di mettere L'erba accanto Sai Quanto stai aspettando Bello mio E poi Signori Ancora una volta Grazie per i cento iscritti Andate a vedere Lo speciale Andate a vedere Tutti i video collettivi Mi raccomando C'è anche uno Con Davide E poi ce ne saranno altri Perché fra poco Ritornerà Per un periodo Breve di tempo Chiede un mesetto Quindi vabbè Signori Qua Davolo è tutto Noi se ci sentiamo Quindi al prossimo episodio Bella Bella Bella